Gennaro Nero, presidente della FIPAV Molise, all'indomani di una giornata storica per l'Italia, sia sotto il punto di vista giovanile che femminile. Ci avviciniamo però, per quanto riguarda il Molise, verso la tappa gold del torneo di beach volley, terzo appuntamento nazionale, questa volta ci spostiamo però su Termoli. Sì, però un passaggio sulla giornata storica di ieri è doveroso farlo. Ieri era 17, ma non era 17, sembrava 13. Abbiamo vinto 4 titoli, di cui 3 titoli europei giovanili, 2 a maschile e 1 a femminile. Abbiamo vinto per la prima volta la National League di pallavolo. Un grande risultato per la federazione, un grande risultato per il nostro presidente nazionale e per lo sforzo che stanno facendo sui territori e anche a livello giovanile. Ora l'ultimo appuntamento della stagione sportiva, il campionato italiano gold a Termoli. Lo faremo in località Riovivo e siamo pronti anche a questa sfida ennesima per il nostro comitato. Si partirà però, nella realtà dei fatti, anche con l'Under 20 per la punta di beach volley. Quindi saranno in realtà molti giorni da poter vivere all'insegna del beach, sì, ma direi anche in generale dello sport. Sì, partiremo il 27 e il 28 con questa tappa del campionato italiano Under 20 maschile e femminile. Poi il 29 avremo le qualificazioni per la tappa gold. E il 31 abbiamo proprio la tappa gold del campionato italiano di beach. Ricordo che sono solo tre tappe gold durante questo campionato italiano. E una di queste si farà a Termoli. Saranno presenti anche i nazionali italiani, che parteciperanno, speriamo, alle prossime Olimpiadi in Francia nel 2024. E ci sarà anche una grandissima, spero, cornice di pubblico, anche perché è un'occasione importante per tutta Termoli e per tutti i Bassomolise a livello promozionale. Perché comunque ricordiamo le dirette che ci saranno sui canali nazionali, tra cui Erosport e Rai, insomma, è una bella vetrina per la città di Termoli. È ancora una testimonianza anche di fiducia da parte della Federazione Nazionale nei confronti della FIPAV Molise? Sì, sicuramente. Qualcuno dirà, ok, ma non vi riposate mai, ok, sì, avremo anche un po' bisogno di riposo. Però alla fine ci stimolano. Le sfide a noi comitato non ci spaventano. E un ringraziamento comunque a tutto lo staff che mi sta supportando per questo evento. Dove, ripeto, su Termoli è anche ancora più importante, perché comunque su Campobasso e Serni abbiamo fatto già altri eventi e questo è il primo evento ufficiale che facciamo come comitato regionale nella zona di Termoli. Ci teniamo a far fare bella figura.